Salve, questa sera siamo qui per parlare delle psicosette. Io mi presento, sono Francesco Caccetta, sono segretario nazionale del sindacato Un'arma dei Carabinieri. Ha un significato il fatto che io sia qui questa sera per fare questa presentazione e lo scopriremo nel corso di questa piccola introduzione. Le psicosette commettono quasi sempre dei reati, soprattutto truffe ai danni dei poveri disgraziati che ci cascano e che stanno passando un brutto periodo, soprattutto un disagio di tipo psicologico, ai quali viene effettivamente rubata letteralmente l'anima. Il fatto che se ne occupi anche un'arma è perché le forze dell'ordine si trovano spesso in difficoltà nel contrastare questo genere di crimine, sia per quanto riguarda la normativa che è assolutamente in questo momento abbastanza insufficiente e anche perché le vittime difficilmente in questi casi sporgono denunce. Quindi questo tipo di divulgazione serve non solo per le forze dell'ordine per apprendere quali sono le modalità per scoprire chi sono questi personaggi, ma anche per i semplici cittadini che potrebbero trovarsi ad avere a che fare con queste organizzazioni e di conseguenza magari capire da subito di cosa si tratta. Tra l'altro queste sono organizzazioni che mirano logicamente a prendere soldi a queste persone che vengono circuite e in questo proposito l'Umbria, che sappiamo tutti essere una terra abbastanza ricca, è assolutamente papabile per questo tipo di organizzatori.